benvenuti nel mio canale oggi sono col mio assistente speciale il mio giuseppe manda un bacino giuseppe adesso vedrete un vlog che abbiamo fatto io e maria teresa vi porteremo con noi ad un evento buona visione ecco io vado in giro col vestitino di trilli molto carino peccato che non mi entra è arrivata maria teresa eccola e teresa ma come sei stata veloce come mai trovato la scorciatoia perché non parli permesso allora io spero che non si prendono i nostri attacchi di ridarella e dovete sapere che io e maria teresa non possiamo stare insieme poiché siamo affette da ridare la puta inguaribile e facciamo le brutte figure in questo caso nooo vabbè o pensano che siamo troppo allegri o pensano che siamo brilli oppure lo sceme va bene va bene sono un minuto insieme già stiamo a ridere come le sceme allora vediamo a vedere che attacca la corrente che attacca la corrente signor bruno ci può attaccare la corrente gentilmente volentieri volentieri ma come se l'hai staccata la corrente no ma io non ce l'hai messo la risattacca ma io so il proprietario e non mi dico ah ok ma stasera la stacco la devi ricercare la devi ricercare la devi ricercare grazie c'è il caudio oh poi mi stavo a guardare il film di roma eh si romandi morali sii uguale cioè come si chiama quel film facciamo un po' di spoiler dicci il finale del film no ancora no stiamo facendo un po' di scatti ovviamente ovviamente maria teresa si è fatta male vicino a quella piantina non so come non me lo chiedete adesso inciampata in un franco bollo bene bene qua comunque dicono che non piove ma siccome piove lì è nero i nuvoloni ci prendono ma non piove ma non piove l'importante è che non si rovina l'attrezzatura ma rifatti fare una foto qui ecco per adesso ci facciamo sempre questo ah però c'è il conte lì dietro lo vedete il nostro conte c'è il conte poi c'è la contessa la rivombrosa poi c'è la cenerentola dei poveri è bello avere le due prospettive vediamo i pesci guardate che bell'acqua si ci sono i pesci vedete i pesci aspettate vi faccio vedere meglio aspettate sono uscita io come si gira come si gira come si gira non si gira vabbè non mi prendo i video dei mail ho fatto la foto questo è uno dei nostri animaletti domestici Mimì e Cocò come si chiamano? andò come si chiamano? io mi ero fiacca di nere oh che di domi ce l'hanno il nome e tu cosa avevi pensato? Mimì e Cocò piangolatte e cappuccino basta è meglio il tuo nome io Mimì e Cocò come siamo scontate come siamo scontate sei staccato il telefono sei staccato il telefono questo bluetooth vai sei pronta? video che stai facendo? come si fa per campare bene vediamo si la situa in giapponese è antico si capisce si capisce? il compleanno è finito tutto bene stiamo di ritorno vittoriose poi con questa festa la festa di Federica noi ci divertiamo sempre tantissimo auguri Federica sono gentilissimi ci aiutano anche a caricare scaricata eh è vero è vero oggi non abbiamo nemmeno scaricato niente tutto il papà della festeggiata grazie a papà della festeggiata ed eccoci qua era finita abbiamo cambiato luce questa è più soffusa più soffusa perché noi siamo all'uno di Candela bene dopo lei mi tradisce andrà con un uomo di tre anni tre anni tre anni molto bello biondissimo occhi azzurrissimi ce l'ha di andare da mia nuora si è vero quindi c'è l'appuntamento con il mio bimbo c'erano fare un mega giro e io ho le prove di teatro eh soffri ma dai ottimo con la notizia ho imparato tutto il secondo atto a memoria ma chi se mi prega oh ma chi lo fa ma chi lo fa io non ho memori memori ci parcheggiiamo un attimo qui si aspettiamo grazie per aver visto anche questo video mettete mi piace giusto mettete mi piace condividete 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 giusto condividete iscrivetevi al nostro canale aiutateci a crescere ciao Giuseppe ciao un bacione alla prossima mandi i baciati Giuseppe